Collocato su una collina situata alle spalle di Pietra Ligure, Ristorante Il Capanno metterà a vostra disposizione i suoi ambienti esclusivi e vi regalerà una cerimonia di nozze da favola. La location dispone di tre sale in grado di contenere fino a un totale di 160 persone. La sua atmosfera intima e ricercata colorerà il giorno del vostro matrimonio di sfumature romantiche e raffinate. I vostri ospiti potranno vivere un soggiorno da favola avvolti da una cornice unica nel suo genere. Durante la bella stagione potrete usufruire di un giardino e di una terrazza che saranno il teatro perfetto per allestire il vostro banchetto noziale all'aria aperta. Circondati dal verde della natura e dai suoi delicati profumi potrete festeggiare nel migliore dei modi il giorno più importante della vostra vita. Ristorante Il Capanno e il suo staff sapranno prendere in mano con la massima professionalità ogni aspetto legato all'organizzazione delle vostre nozze. La loro esperienza e la loro cordialità saranno la ciliegina sulla torta di un servizio che verrà incentrato sulla volontà di concretizzare ogni vostro desiderio. Il Capanno vi offrirà il meglio della cucina ligure. Pasta fatta in casa, piatti a base di carne e di pesce, tra le sue specialità potrete assaporare le trenette al pesto e i taglierini ai frutti di mare. Il menù verrà costruito attorno alle vostre richieste e attraverso l'utilizzo di ingredienti freschi e saporiti saprà regalarvi un'esperienza culinaria indimenticabile. Il Capanno Puccine Our Puccine Strong Puccine Puccine